Musica Hello guys, Ranjana here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Allora, oggi avevamo detto che potevamo provare a fare un Ultimate Hybrid Solar Panel Allora, iniziamo a fare un Hybrid Solar Panel che è già una bella botta Allora, questo è Rhythm Plate, vediamo come si fa Mamma mia, Advanced Alloy ce ne servono un sacco Ok, ci serve proprio un sacco di Advanced Alloy Questa roba come si fa? Questa così, ok, Alloy ci serve Abbiamo Alloy, no, come si chiama quella roba, raga? Mixed Metal Ingot si chiama, no? Fermi tutti perché lo sapete che io mi dimentico sempre Mixed, vediamo Mixed No, no, con la virgola sicuramente non troveremo nulla Niente Allora, andiamo a vedere se abbiamo qualcosa sotto la Rolling Machine No Vediamo se abbiamo qualcosa proprio già fatto Assolutamente no Nel compressore 2 Bah, meglio di niente Allora, andiamo a prendere il bronzo Vediamo se abbiamo almeno quello Quello lo abbiamo Poi andiamo a prendere la Tin Che abbiamo già formato negli scorsi episodi E andiamo a prendere L'Iron Iron, sì Iron Wraith Nights Che abbiamo già preso negli scorsi episodi Allora, andiamo a fare La ricetta ovviamente non me la ricordo Perché è sempre molto bello Molto molto bello Ok, quindi Facciamone 6 Per sicurezza Facciamone 6 Quindi 5 Ok, 6 E poi 6 E poi 6 E 6 E 6 In questo modo ne escono esattamente 12 In teoria Andiamo a mettere questa roba qui A posto La Gunpowder Anche perché ho ucciso un Creeper Che stava fuori casa E ovviamente Scelgo sempre I posti è bellissimo Farsi trovare quei bastardoni Io sono uscito qua E lui stava qui Qui Proprio qui Perché? Perché lì? Cioè Perché non lì? Tipo Devo vedere se la farm La farm Di Enderman va Qua è finita la minion Qua è molto finita la minion Però sta usando quella della Starà usando quella di questo fianco Per far ferro? Mi sa di sì Mi sa proprio di sì Va bene Va bene Va bene Va bene Allora Va allora Avlora Avlora Allora Iniziamo a smontare Uno dei tre solar panel Vediamo Se c'è uno scarico Smontiamo con lo scarico Ecco tipo questo Buongiorno Grazie Ok Ah ok 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 Allora Abbiamo il solar panel Andiamo a fare questa roba qua Andiamo di qua Ci prendiamo questi Le andiamo a comprimere Una volta scompressi Perché noi scompressiamo le cose Però se ricordate Noi non le compressiamo Noi le scompressiamo Andiamo a fare Pratico Lapis Cazzo Lapis Ce l'abbiamo già Il blocco Perché l'abbiamo preso In the twilight Vi ricordo sempre In the twilight In the twilight In the twilight Questo ce l'abbiamo già Bella Bella per noi E iridium plate Allora sta roba Dobbiamo farla Allora diamond dust No problem Dobbiamo fare due Giusto? Dobbiamo farne due Quindi Eh sì Ci servono Otto Otto Iridium ingot Quindi dobbiamo farci Otto pezzi di iridio Abbiamo dell'iridio I Ir Ir Iridio Ok Ehm Fermi tutti Dobbiamo farci dell'iridio Otto abbiamo detto Giusto Fermi tutti Perché non dobbiamo sbagliare Questo pezzo Non dobbiamo sbagliarlo Assolutamente Quattro E quattro Otto A casa mia Sono Sei Cinque Sei Sette E otto Con questo che abbiamo Ok A posto Ho fatto un sacco di U-metters Avete visto brothers Quindi Eh Abbiamo fatto una gran cosa Olè Dammi tutti i miei ingot Dammi tutti quanti Sì brothers Sì Oh bravissimo Allora fatto questo Dobbiamo far così Ok Così Ok E al centro cosa ci va Perché non ho visto Cosa ci va al centro Perché bro Io le cose le vedo a metà Ah diamond dust Che non è un problema Dobbiamo farne Due Ok Quindi No Questo è il compressore To Due Perfetto E a posto Questi a posto Questi a posto E la diamond dust Ce l'abbiamo Qui Eccola lì Boh Ehm Perché non va Cosa Cosa non va Perché va nella rolling machine Ovviamente Bella Rendi Mamma mia Proprio sì Proprio sì Allora aspettate Iridium Ir Iridium Mingo Teccolo qui E poi Ad Advanced Alloy Perfetto Allora Spero non ci perda una vita e mezza Sinceramente Ehm Questi li postiamo un attimo fa Allora facciamo così Abbiamo detto Ok Poi facciamo Tutu 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 Ok E tutu Bella Irridium plate Ah no E' anche più veloce E' anche più veloce Dell'altro Cosi Tanto andiamo a cuocere Queste altri Cosi qua Perché Servono sempre Brothers Faccio alla fine Non spariamo Sboronate Servono sempre Servono proprio sempre Sempre Purtroppo sempre Da Clicca Fallo 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 Ho detto fallo Ok Mentre lui fa Noi dobbiamo farci Gli advanced Circuits Circuits Allora Aspettate Gli advanced Circuits Perché se fanno Solo advanced Solo circuits Allora Spermi tutti Spermi tutti Ehm Dove sono i miei copper cable Eccoli qua i miei copper cable Buongiorno Dobbiamo farne due Ok Fatto questo Apposto 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 Ehm Serve Redstone 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 Poi servono lapis mazzuli E glowstone Glowstone Che abbiamo preso Nella scorsa puntata Se non mi ricordo male Se non mi ricordo male Se non mi Dove Dove cazzo è la mia glowstone Raga L'abbiamo presa la glowstone Ma lo ricordo L'abbiamo presa la glowstone L'abbiamo finita L'abbiamo finita Davvero Ma mi state dicendo davvero Ma davvero 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 No dai No 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 La glowstone mi serve No No brothers Dove è la mia glowstone Dove cazzo è la mia glowstone Perché non ce l'ho raga Com'è possibile che io non ho glowstone Vabbè Ehm Boys Dobbiamo andare Dobbiamo andare Oh Tanto fuori piove Buongiorno Dobbiamo andare a prendere la glowstone Boh Andiamo Buongiorno 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 Oh Lelelelele Trasportiamoci In the nether In the nether In the nether The fucking nether The nether sleep tonight Ho detto poche volte nether Mi diceva Guarda il nether Che è proprio nether E ti rompe sai Yeah Ok Aspettate un po' Questa ci serve Ok Ok Ragazzo Aspettate Mouse Perché mi fai questo Una mouse che si incastra nel mobile Dovrei spostare il filo del mouse Dovrei proprio spostare il filo del mouse Guardate come Come scavo bene la glowstone Proprio bellissimo In realtà la rompo Perché Però Ma anche Secondo voi è corretto dire scavare la glowstone Fatemi sapere i momenti Oh signore Che cazzo è esploso Oh porca puttana Vabbè noi andiamo a casa Buongiorno Ciao 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 a tutti Ciao 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 a tutti È ritornato nel mondo Fico Lo zombie Mi sa che è tornato nell'overworld brothers Sì Sì qui Infatti sei proprio Sì Sì Ragazzi Avete rotto il cazzo però Eh Avete proprio rotto il cazzo Ok Grazie Buongiorno 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 Abbiamo la glowstone adesso Allora dicevamo La glowstone qui Adesso la glowstone ce l'abbiamo brothers Non potete dire che non l'abbiamo eh Ha fatto tutto this Andiamo a vedere Cosa qua sotto ci dice di fare Ah Ah Brothers è questo Qua ci divertiamo Uranio Uranio Ok E questi sono già i radiant Uranium Uranium Blabs 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 A glowstone Si fa così Giusto A quanti ce ne servono Perché si fa questi Dobbiamo andarle a compressare Questo Ce ne servono otto Ne abbiamo già quattro Quindi tutto sommato È fattibile Ce l'abbiamo Un botto di uranio Raga Proprio un botto Un botto Un botto di uranio Per te Un botto di uranio Per me Vai a posto Quello che c'è in mezzo Invece come si fa Ok Quello si fa con la UU matters UU UU matters UU matters UU matters E la glowstone Che ne abbiamo proprio in quantità Adesso Bella Buongiorno Tu a posto A posto A posto A posto Ok Questa è roba mia Buongiorno Enchantian San Siro Si Enchantian San Siro Raga Voi ricordatevi San Siro E Sapete come farlo Facciamo questo qua Questo qua Questi qua No No Questo qua su Ok E Questo Raga Ce l'abbiamo fatta È stata un'ammazzata Ma abbiamo fatto quello di mezzo Dobbiamo fare solo questo Una stranzata A questo Si fa Questa roba si fa tranquillamente Perché serve E costa coal ball Che è tanto coal Co in mezzo flinta La flinta ne abbiamo Non ce l'abbiamo la flinta Noi raga E Coal E non abbiamo neanche questi Però mi dicevano che non ne abbiamo noi di coal Di coal così qua 8 8 E 8 16 Ok Ce la possiamo fare Iniziamo a farne Dobbiamo Dobbiamo andare Vabbè Buongiorno 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 Dobbiamo farne 24 Siamo 8 Quindi ci sta Allora Qui Intanto dobbiamo fare quest'altra roba qua Questa è già più interessante Perché vedete Serve un botto di uranio Mi sa non ce lo facciamo a farlo Brothers Dove cazzo lo trovo Tutto questo uranio Porca puttana Ehm Bros Come faccio l'uranio In modo tale da fare l'uranio Per l'uranio Aha Aha No ok Questo Questo qui Come lo faccio Ehm Con le api Con La U-meter Non faccio nulla Aspettate che consulto la wiki Perché consultiamo la wiki Allora U-U-meter Aspettate Perché la wiki va consultata In questi casi Perché potrebbe essere interessante Allora U-meter Abbiamo detto che ci serve l'uranio L'uranio Uranio Tutututututututututututututu Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo Questo Non è niente che ci interessa Questo Non è niente Cioè abbiamo l'uranium dust Volendo Ah no Per fare questa altra roba No Raga Non c'è Mi sa che non c'è Mi sa che la devo solo trovare Porco cane E questo è un bel problema Questo è davvero un grosso problema म Perché Per tutto il resto Possiamo farlo Tranquillamente Avete visto Il crafting Non è difficilissimo A questo punto del gioco è tosto ma non è difficilissima dobbiamo fare quanto cazzo di carbone serve per fare quella roba lì oh ma stiamo scorsando tanto tu compressa perché sennò finiamo domani mattina iniziamo a fare tutto al massimo mi metto vado a cercare l'uranio in the twilight proprio perché lo so in the twilight a 16 dobbiamo fare altri 8 quindi siamo a 3 vabbè fatto questo ci serve solo questo oppure 8 di questi ma sinceramente penso che tra le due ho proprio riscontrato e cercare tutto con l'uranio anche se non so se si può trovare tutto con l'uranio quanti pezzi ne servono 8 16, 32 giusto ma togli il redone plate ma togli che ne servono non ce la facciamo proprio servono un sacco di umatter allora facciamo così questo è spento adesso accenditi assolutamente io mi vado a cercare un sacco di uranio ci perderò tipo una vita e mezza probabilmente per cercare tutto con l'uranio e possiamo completare il tutto nel prossimo episodio adesso mi chiedere te rendi perché non attacchi il bellissimo hybrid solar panel a questa batbox qui perché sennò esplode tutto perché questo è high voltage se non mi ricordo male quindi non lo fate perché sennò esplode tutto ok questo ce l'abbiamo intanto iniziamo anche a fare abbiamo l'ossidiana ossidiana 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 si ok colchunk perfetto abbiamo i nostri tre colchunk perché tre ce ne servono quindi li mettiamo a posto ok intanto i cagli abbagnano perché se non abbagnano quando registro io non è divertente e brothers allora io facciamo così io vi saluto vado a cercare l'uranio in off camera perché penso che sia l'unico modo che ci vorrà un sacco di tempo spero di trovarne tanto nella toilet vabbè comunque abbiamo fatto un hybrid solar panel cioè non vorrei dire mica pizza fichi siamo già messi molto molto bene intanto ho la voce che se ne sta andà quindi gg per me e niente lasciate un pollice in su un commentino fatemi sapere se si può fare l'uranio in qualche modo con la volumeter perché sarebbe una cosa molto interessante e vi ricordo che quando finiremo l'ultimate hybrid solar panel non lo metteremo attaccato all'MFSU ci ho pensato bene ma lo metteremo direttamente attaccato al nostro mass fabricator perché quello è esattamente quello che spreca il mass fabricator niente di più niente di meno e ci conviene attaccarlo lì piuttosto che per tenerlo sempre in funzione ovviamente piuttosto che metterlo piuttosto che collegarlo là sotto poi gli altri ovviamente li potremo collegare là sotto senza problemi e siamo a posto allora guys noi ci vediamo al prossimo video c'è un pollice in su mi piace che è la stessa cosa ma voi lasciatelo due volte per sicurezza ma vabbè in realtà lasciatelo uno perché se no la seconda volta la togliete e lasciate un commento fatemi sapere se è così dicendo e niente enjoy e crederne sono con voi bye bye ciao 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 Grazie a tutti.